buongiorno a tutti ragazzi oggi farò vedere la nuova il nuovo aggiornamento della ps3 appena ho finito di scaricarlo aspettate mi farà delle strisce ondulate all'inizio aspettate che l'accendo che alla fine dell'aggiornamento si spegneva vabbè questo lo dice sempre non cambia quasi niente il mio sistema aspettate da dove si poteva vedere la versione è quella massimo aspettate che guardo qui da dove si poteva vedere la versione qual era comunque poi aggiungetemi su playstation network adesso vi farò vedere se lo dice come mi chiamo comunque aria in 10z qui non lo so non lo fa vedere ecco qua aria in 10z aspetta poi allora utilità no qui non è niente aspetta aspettate se guardo all'inizio forse credo che era qui ecco in posizione sistema e allora detail backup informazioni sul sistema ecco versione 4.10 vabbè i giga non li contato perchè era la versione vecchia anziché però continua a reggere comunque questa è la 4.10 quando scarica ci saranno delle onde e in basso va bene allora ragazzi grazie a tutti e dalla prossima